Giorgia Meloni, la cifra shock, quanto ha speso per la nuova casa La premier Giorgia Meloni si appresta a fare un significativo cambiamento di residenza Secondo quanto riportato dal Fatto Quotidiano, la leader del governo italiano ha firmato il contratto preliminare per l'acquisto di una villa di lusso, dal valore di 1,1 milioni di euro Nonostante alcune complicazioni burocratiche, Meloni è riuscita ad accelerare il processo, garantendo la conformità dell'immobile agli standard abitativi La previsione è che entro due mesi, Giorgia Meloni e la sua famiglia si trasferiranno nella nuova dimora di 350 metri quadrati La villa, ubicata poco fuori dal raccordo anulare di Roma, si sviluppa su due piani, e offre ampi spazi, ben due soggiorni di 70 metri quadrati ciascuno Una cucina di 33 metri quadrati, e una cabina armadio di 14 metri quadrati All'esterno, la proprietà sarà dotata di 100 metri quadrati di giardino, e una piscina di 9 metri per 3,5, con una portata di 47.000 litri d'acqua In aggiunta, la casa sarà ecosostenibile, verranno installati 48 pannelli fotovoltaici, con una capacità totale di 20 kW La Meloni ha già versato 300.000 euro, mediante assegni e bonifici, e i restanti 800.000 euro saranno pagati a seguito della conclusione dei lavori di ristrutturazione, prevista per il 30 settembre 2023 Gli interventi includeranno lavori interni per 177.000 euro, l'installazione dell'impianto fotovoltaico per 104.000 euro e ulteriori lavori esterni per 77.000 euro, di cui 30.000 euro saranno destinati esclusivamente alla piscina Questi costi sono già inclusi nel prezzo totale di 1,1 milioni di euro Dopo aver venduto il primo piano della sua precedente residenza nel quartiere Torrino, per 650.000 euro, la Premier si prepara dunque a voltare pagina, entrando in una nuova fase della sua vita personale e pubblica Questa volta, in una villa che promette comfort e sostenibilità Che ne pensate? A voi i commenti Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, e iscriviti al canale, per ricevere gli aggiornamenti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti